Prima di tutto volevamo complimentarmi con Channel City per questa iniziativa di grande successo che ci ha accompagnato per cento edizioni e dieci anni. Ha raccontato per dieci anni un po' la storia del canale che effettivamente è stato un canale in forte evoluzione e trasformazione, quindi ha raccontato dell'avvento dei nuovi trend di mercato. Riavvolgiamo il nastro, vediamo che effettivamente c'è stato l'avvento di tecnologie, soluzioni e trend importanti, cloud, la security, la modernizzazione delle applicazioni, tutte le nuove soluzioni da artificial intelligence, IoT e quindi in questo scenario effettivamente anche noi stessi come Computer Girls abbiamo cercato di delineare in questi dieci anni una strategia che ci ha sempre accompagnato nel tempo, fondata su quelli che sono i nostri valori, quindi partnership di lungo termine con i vendor leader di mercato. L'ingresso di nuove soluzioni all'interno del portfoglio Computer Girls sempre in una logica di valore, quindi cercando di mettere a disposizione sia l'effort del distributore ma anche tutta una parte di competenze e di servizi che sono poi un po' il nostro core business in termini proprio di servizio verso il canale. E questo l'abbiamo fatto e cercato di portare avanti proprio insieme a quelle che sono delle sinergie totali anche con le nostre parti con cui abbiamo un dialogo costante e anche una fase d'ascolto e di collaborazione importante. Tra l'altro devo dire insomma se uno rivede questi dieci anni abbiamo avuto anche l'occasione di aprire il nostro canale di Cash & Care attualmente B2B Store tra l'altro accompagnato dai colleghi di Channel City tappa per tappa che ha visto insomma il lancio di un nuovo programma di grande successo soprattutto per l'attenzione verso il territorio e verso tutta la parte di di cover geografico ecco. Tutta questa attività l'abbiamo fatta con grandi impegni e con valori che cerchiamo di rappresentare ogni giorno quindi l'innovazione, professionalità e competenza. Il mio invito e speranza è di lavorare giorno per giorno con ciascuno di voi, rinnovare e riavere la vostra fiducia e cercare di essere qua tra dieci anni a festeggiare un altro compleanno importante per il canale insieme a Channel City. Grazie a tutti.